Siamo con Bill Terlato, presidente e CEO di Terlato Wine Group. Qual è il segreto di tanto successo? Penso che sia la passione che deriva dall'amore per il proprio lavoro che rende tutto più semplice. Se ami quello che fai non sembra neanche lavoro. Inoltre noi cerchiamo sempre di prepararci con disciplina. La nostra famiglia lavora in questo settore da 85 anni. I miei nonni avevano un negozio e poi un'attività di distribuzione. Abbiamo iniziato a importare vini, a comprare case vinicole e poi siamo passati ad acquistare la proprietà di marchi di alcolici. Quando un membro della famiglia vuole lavorare, prima di tutto vogliamo che faccia ciò che ama. Per entrare in questo settore, uno della nostra famiglia deve prima lavorare all'esterno con un suo lavoro, essere promosso manager e dirigere il personale per almeno un anno. L'effetto è duplice, permette di sviluppare le proprie capacità ed essere consapevoli dei risultati ottenuti e inoltre migliorare la fiducia in se stessi. La cosa peggiore sarebbe introdurre in azienda un membro della famiglia non preparato. Significherebbe destinarlo al fallimento. Solo chi è dotato delle competenze necessarie viene rispettato in azienda e può dare il giusto contributo per far funzionare il sistema. Come stanno cambiando la geografia, le politiche commerciali nel settore del vino negli Stati Uniti? Sicuramente gli Stati Uniti rappresentano una grande opportunità, ma pongono anche molte sfide. Negli Stati Uniti il commercio del vino e degli alcolici nasce dopo il proibizionismo e in quell'epoca è stato dato ad ogni singolo Stato il diritto di regolamentare questa attività in autonomia. Non esiste quindi una legge federale in materia. Quando si commercia con 50 Stati è come avere a che fare con 50 diversi Paesi. Ogni Stato ha le sue leggi e i suoi regolamenti. Abbiamo anche un sistema obbligatorio su tre livelli che rende molto difficile portare il prodotto sul mercato. Per vendere non possiamo andare direttamente da un ristorante o da un rivenditore. Dobbiamo prima vendere a un distributore, che a sua volta vende al ristorante e al rivenditore. Questa procedura è obbligatoria per legge, non può essere evitata e ci mette di fronte a delle complicazioni. Inoltre negli Stati Uniti è possibile trovare qualsiasi vino prodotto in giro per il mondo e, d'altra parte, siamo anche un Paese produttore di vini. L'80% delle vendite proviene da vini prodotti negli Stati Uniti. Quindi questa concentrazione, combinata con i numerosi prodotti che arrivano dall'esterno, rende il mercato molto affollato. L'anno scorso l'Ufficio delle Imposte e del Commercio ha approvato 180.000 etichette, il che significa 180.000 vini concorrenti. È un settore molto affollato e molto impegnativo. Una normale carta dei vini, con 100 o 120 vini in lista, ha quindi 180.000 alternative. È chiaro quindi che un marchio non conosciuto non avrà facilmente successo. C'è effettivamente un consolidamento, un'aggregazione tra i vari distributori. C'è un consolidamento in atto a tutti i livelli. È in fase di consolidamento il commercio al dettaglio, che ora è gestito da meno società di maggiori dimensioni. Lo stesso consolidamento sta avvenendo nel settore della distribuzione. Quando noi operavamo nella distribuzione in Illinois, negli anni 50 e 60, c'erano circa altri 80 distributori. Oggi ce ne sono solo 3 o 4. Anche a livello di importatori vediamo lo stesso tipo di consolidamento. 15 anni fa c'erano circa 200 o 225 importatori credibili. Oggi ce ne sono ancora molti, ma nella maggior parte dei casi si tratta di aziende fatte da una o due persone che girano con un telefono e una valigetta. Gli importatori che veramente si dividono la maggior parte del mercato sono 10-12. Di fronte a tale riduzione rimane un enorme afflusso di prodotti provenienti da ogni parte che devono raggiungere il mercato. Ma il passaggio è stretto e richiede tempo. Servono prodotti di qualità, serve a pazienza e volontà di investire. Per accedere al mercato il prodotto da vendere deve sostituirne un altro che già si trova nel negozio o nel ristorante. Per vendere un prodotto non basta dire che il tuo vino è migliore di quello del tuo vicino. Per vendere una bottiglia di vino da 20 dollari la tua deve essere migliore di tutte le altre da 20 dollari. Mi devo chiedere perché qualcuno dovrebbe acquistare il mio prodotto al posto di uno degli altri 180.000? Poi è necessario sviluppare una strategia di vendita per far capire cosa ha di diverso il tuo prodotto. Il direct to consumer trend è un trend in espansione. Potrà cambiare gli assetti geografici, politici e l'equilibrio distributivo del mercato del vino. La situazione sta cambiando, ma molto lentamente. Tornando a quanto detto prima, ogni Stato ha il diritto di fare le proprie leggi in materia di vendite dirette al consumo. Alcuni Stati permettono la vendita diretta al consumatore. Altri la permettono, ma con la limitazione di 60 bottiglie all'anno, di cui è necessario tenere traccia a livello fiscale. Ci sono poi 13 o 14 Stati in cui la vendita al consumo è proprio vietata. Penso che la legislazione sia destinata a cambiare, ma in modo molto lento, perché ci sono molti interessi in gioco che impediscono tale sviluppo. Alla fine penso che vincerà il consumatore, perché non avere un mercato libero è contro la libera concorrenza e contro i consumatori. I marchi che vendono meglio sono quelli difficili da ottenere, non quelli che si trovano nel negozio sotto casa. Non c'è bisogno di un intermediario che faccia l'acquisto per poi addebitare la spedizione al consumatore. I consumatori cercano qualcosa di speciale che non si trovi ovunque. È una specie di caccia al tesoro. I consumatori cercano qualcosa di veramente unico e speciale. Il suo suggerimento è e-commerce sì o e-commerce no? Sì, certamente e-commerce, sì. Come stavo dicendo, si tratta di una cosa a favore del consumatore e alla fine penso che il consumatore vinca sempre. I consumatori alla fine trovano il modo di acquistare direttamente. Del resto lo fanno normalmente. Tutti i prodotti vengono ormai portati direttamente al consumatore. Ordini online e la consegna viene fatta in un giorno o anche in un paio d'ore, a seconda del prodotto. È solo questione di tempo prima che il consumatore dica perché non è possibile acquistare in questo modo anche il mio vino. Come si sta sviluppando l'e-commerce? Viene fatto direttamente dall'Italia oppure viene fatto dal distributore o dall'importatore? No, questa cosa può essere fatta attualmente solo negli Stati Uniti. La vendita online può essere fatta da un'azienda vinicola autorizzata o da un importatore. Le vendite dall'estero non sono legali anche se sicuramente qualcuno lo fa, ma è illegale. Forse prima o poi la cosa cambierà. Ma piuttosto è necessario chiedersi perché le persone vogliono comprare direttamente. I motivi sono la convenienza, il costo e la possibilità di acquistare prodotti che non sono facilmente disponibili sul mercato. Del resto, spedire il vino negli Stati Uniti dall'Europa è molto costoso perché bisogna passare attraverso tutte le diverse procedure doganali. Penso quindi che la cosa migliore sia trovare un partner negli Stati Uniti e lavorare insieme per gestire velocemente la logistica. come considera le strategie promozionali del vino italiano negli USA, negli Stati Uniti? Penso che puntare sul Made in Italy sia una buona strategia. L'Italia è conosciuta per la moda, le automobili. Il termine Made in Italy implica di per sé l'idea di artigianalità. Per questo specifico settore ritengo inoltre che il vino segue il cibo. Il cibo italiano è ampiamente riconosciuto, di ottima qualità e probabilmente il massimo comfort food degli Stati Uniti. Quindi l'interesse così forte per il cibo italiano è di grande supporto per il vino italiano. Penso che sia un grande vantaggio rispetto ad altri paesi che non hanno una cucina tipica come Australia o Nuova Zelanda. Penso che il Made in Italy sia importante e che si debba promuovere la manualità e l'artigianalità di questi prodotti. Che cosa consiglia alle cantine italiane che vogliono venire negli Stati Uniti? Direi che serve un certo metodo. Si devono fare ricerche di mercato per capire dove esiste il potenziale per un determinato marchio. È bene prendere anche informazioni sulla concorrenza già esistente in un determinato mercato. Se abbiamo intenzione di cercare di sostituire un vino nella lista dei vini o in un negozio, dobbiamo andare a vedere con quale regione, con quali marchi e con quali articoli entriamo in concorrenza. A quel punto passiamo alla fase delle degustazioni alla ceca con tutti i prodotti. Prendiamo 10-15 vini che nessuno conosce e li valutiamo tutti per capire come il prodotto si posiziona rispetto ai concorrenti nel mercato. Dopo la classificazione è necessario prendere in considerazione i prezzi. Il tuo prezzo può essere del 5% in più o del 5% in meno, ma non certo più costoso del 25% rispetto agli altri vini comparabili in termini di gusto. Tutto questo fa parte della ricerca e richiede pazienza. Essere disposti ad investire e non solo denaro, ma anche tempo per costruire il mercato che non cresce da un giorno all'altro. Molti pensano che sia facile avere fortuna negli Stati Uniti, che basti presentarsi per vendere i propri prodotti, ma non è fatto così, è tutto molto competitivo. Vorrei anche aggiungere che almeno per quanto riguarda il nostro settore c'è un ciclo economico di 10 anni. In questi 10 anni ci sono 2 o 3 anni molto buoni, poi 3 o 4 anni nella media e poi 1 o 2 anni pessimi. Durante gli anni molto buoni si tende a pensare che questa situazione durerà per sempre, ma non è così. Lo stesso vale quando le cose vanno male. è quindi necessario tenere in considerazione questa ciclicità ed essere preparati agli anni molto difficili per trovarsi in una posizione forte e uscirne in modo positivo. E per questo serve disciplina. I piccoli e medi imprenditori come fanno a cercare a trovare degli importatori di qualità? Molte informazioni possono essere trovate online dagli elenchi degli importatori classificati in base ai volumi o al valore dell'attività. Analizzare il settore specifico fanno alti volumi a prezzi bassi? Fanno volumi limitati ma a prezzi alti? E in quale fascia di mercato? Inoltre l'ICE può dare supporto ad organizzare degustazioni, ad entrare negli Stati Uniti. Le persone devono poter assaggiare il prodotto. Io vengo continuamente invitato a degustazioni di produttori provenienti da Francia, Australia, Nuova Zelanda, Italia. Ci vado non perché abbia bisogno di qualcosa ma per capire le tendenze. Sarebbe molto difficile venire in Italia e cercare di visitare tutti i produttori. Ci sono manifestazioni come Vin Italy che sono molto affollate e il tempo è poco. Quando invece i produttori arrivano con un gruppo organizzato si presentano con degustazioni dove incontrano consumatori, importatori e distributori ottimizzano sicuramente il loro tempo. Se vogliamo dare un trend dei vini italiani oggi è un trend delle aree geografiche in America, negli Stati Uniti per i vini italiani. Penso che i vini importati e in particolare quelli italiani siano più forti sulla costa orientale. Quando ci si sposta verso la costa occidentale ci sono i vini della California, Oregon e stato di Washington. Questi vini sono più forti sulla costa occidentale e sono ben rappresentati nella zona centrale del paese. Voglio ricordare che l'80% del vino venduto negli Stati Uniti è di produzione interna. Quindi solo il 20% viene importato e il 20% dei vini importati proviene da 70 paesi. L'Italia è già da molto tempo al primo posto negli Stati Uniti per vini importati. Si tratta di circa il 5% del settore complessivo quindi è un dato forte se si considera che è il 5% del 20% quindi il 5% del totale il 25% del 20% viene dall'Italia sicuramente il cibo aiuta questa tendenza i consumatori stanno iniziando ad apprezzare le specialità provenienti dalle diverse regioni in passato si parlava semplicemente di cibo italiano conosco l'Italia fin da giovane e ho sempre considerato che il cibo italiano negli Stati Uniti fosse una specie di caricatura spaghetti e polpette e cose del genere anche girando l'Italia intera questo tipo di cibo non si trova proprio ora ci sono veri chef che vengono ad imparare qui non si parla più solo di cibo italiano ma di cucina siciliana milanese veneta e si conoscono le specialità naturalmente queste cucine si orientano ai vini di quelle zone quindi Toscana Piemonte e così via non penso che ci siano regioni di tendenza per i vini serve solo un vino che deve poter competere con gli altri il settore è semplice c'è il vino spumante e il vino bianco rosè e rosso e l'imprenditore deve sapere come entrare nel sistema dei prodotti disponibili negli Stati Uniti in termini di qualità di prezzo e di disponibilità quando introduco un nuovo marchio devo sapere se in caso di successo potrò offrire il prodotto con continuità sul mercato o se ci potranno essere delle limitazioni e alla fine direi che è un'equazione molto semplice per capire qual è il volume potenziale si moltiplica il numero dei clienti per le casse e il risultato è il volume totale quindi se hai un vino di una determinata categoria e un ristorante ne vende tre casse se vuoi vendere 30.000 casse devi avere 10.000 clienti con 3.000 clienti non potresti fare tali volumi i conti non tornano quindi la domanda è come riesco ad avere 10.000 clienti per questo servono delle partnership e collaborare con persone che credono al potenziale del prodotto e che abbiano anche la capacità e l'esperienza del settore cosa consiglierebbe per il brand building pubblicità o sconti comunicazione o sconti non pensiamo che gli sconti aiutino non si può costruire un marchio facendo sconti perché ci sarà sempre qualcuno che farà ancora più sconto chi acquista un prodotto perché il prezzo è basso domani troverà un prezzo più basso non si fa impresa così dobbiamo fare due tipi di investimento prima di tutto creare consapevolezza ma fare pubblicità quando il prodotto non è ancora disponibile ovunque è uno spreco i soldi spesi per la pubblicità di un prodotto che non si trova in negozio sono sprecati all'inizio si deve investire nella distribuzione quando hai un buon livello di distribuzione devi far conoscere i prodotti può essere pubblicità ma anche molto altro si può partecipare ad eventi di presentazione del prodotto e far conoscere il marchio si può fare molto ma penso che prima di tutto sia necessario garantire la distribuzione del prodotto in questa ottica lei consiglia un importatore per Stato o avere un importatore nazionale operare nei singoli stati è molto impegnativo perché ora negli Stati Uniti ci sono uno o due grandi distributori in ogni mercato e poi ci sono molti piccoli distributori per un nuovo marchio è più facile arrivare sul mercato con un piccolo distributore che ha bisogno di prodotti per poter crescere il problema dei piccoli è che non hanno un numero sufficiente di clienti per garantire un grande volume quindi si raggiunge presto il punto in cui non ci saranno più possibilità di crescere mettiamo per esempio il caso dell'Illinois dove ci sono 20.000 clienti se il tuo distributore vende solo a 600 il tuo prodotto non può competere con i vini presenti in 20.000 clienti quindi è bene iniziare con un piccolo distributore mantenendo però l'attenzione verso quelli più grandi devi in ogni caso avere un prodotto che sia interessante per un distributore di maggiori dimensioni inoltre io non mi rivolgerei a tutti i 50 stati perché la maggior parte del mercato si concentra su 5 o 6 stati New York New Jersey Chicago Florida Texas California se riesci ad assicurarti la distribuzione in questi stati stai operando in mercati che rappresentano tra il 30 e il 40% dell'intero settore solo con 5 mercati quindi mi concentrerei sui principali mercati naturalmente si tratta di mercati estremamente competitivi ma impegnarsi ad entrare in mercati di stati tipo Montana Alabama o addirittura in posti più remoti tipo Utah che sono scarsamente popolati e dove ci sono leggi molto restrittive è un spreco di tempo energia e risorse qual è la metodologia di posizionamento del prodotto consiglia prima food service e orica e poi retail o partire con entrambe su questo abbiamo una particolare visione negli Stati Uniti si definisce la vendita al dettaglio on premise quando si consuma il prodotto sul posto e off premise quando si acquista e si porta a casa pensiamo che il modo per costruire marchi di successo sia sul posto è molto difficile perché si passano mesi a parlare con il sommelier lo chef o il proprietario del ristorante provando diversi vini alla fine forse il cliente inserisce due o tre articoli nella carta dei vini che ne contiene 300 nel corso dell'anno il locale potrebbe vendere tre o quattro casse tu hai passato mesi a lavorare per piazzare il prodotto e ne vendi tre casse mentre se vai da un grande rivenditore potresti vendere 15.000 casse in una sola volta e il problema è che se vendi 15.000 casse in un incontro i ristoranti poi non vogliono introdurre il tuo prodotto devi prima andare al ristorante dove le persone imparano a conoscere i vini un negozio medio al dettaglio negli Stati Uniti ha tra i 5.000 e gli 8.000 vini diversi anche se io sono del settore e lo sono stato per tutta la mia vita quando entro in un rivenditore vedo prodotti che non ho mai visto prima posso immaginare quanto sia difficile per un consumatore medio andare a prendere una bottiglia di vino per la cena e trovare 8.000 vini quando si ordina un certo piatto al ristorante lo chef o il sommelier viene al tavolo e ti consiglia la lista dei vini in un ristorante può avere circa 120 vini per questo scoprire i vini al ristorante è molto più facile le persone che hanno trovato un vino che piace vanno poi al negozio e cercano quel prodotto penso che questo sia il sistema migliore consiglierebbe a un americano di investire in una winery italiana certamente noi operiamo in questo settore da molto tempo e negli ultimi anni abbiamo investito 360 acri di vigneti qui a Colli Orientali in effetti io penso che la risposta giusta sia investire qui in Italia dove abbiamo fatto un investimento significativo e dove continuiamo a cercare nuove opportunità ma vorrei anche aggiungere che preferiamo farlo con un partner italiano sarebbe un errore fare questo tipo di investimenti senza avere un partner italiano che capisca la cultura la situazione politica locale e il modo in cui funzionano le cose nel paese ogni volta che investiamo al di fuori degli Stati Uniti noi collaboriamo sempre con un partner locale quindi possiamo dire made in Italy e made with Italians esattamente se si può dire quante bottiglie di vino italiano vendete nel mercato degli Stati Uniti in totale vendiamo 24 milioni di bottiglie di cui il vino italiano rappresenta circa il 30 35% quindi direi da 7 a 8 milioni di bottiglie di vino italiano io vorrei ringraziarla molto per questo intervento per i suggerimenti che ha dato è stato un piacere per me spero che le informazioni che abbiamo dato siano utili a chi vuol far crescere il proprio business il proprio business Grazie a tutti.